Ben ritrovati ragazzi, in questo nuovo video vediamo come ampliare le funzionalità del sito web che abbiamo realizzato finora. Bene, ora ripartiamo dal sito web realizzato con il pc, con il computer, in questo caso con il notebook. Bene, mi trovo nella pagina web solita Google Chrome, vi ricordo sempre che è necessario utilizzare Google Chrome. Dopo che ho effettuato l'accesso, in questo caso io scelgo un altro utente, quello con il quale avevo realizzato il sito web. Dopodiché vado su Google Drive e ci troveremo tra un attimo con i siti web che avevo realizzato l'altra volta. Spattispecie, Maria Millefiori. Prima di aprire questo documento, però voglio realizzare velocissimamente due file, una presentazione Google e un documento Google. Benissimo, comincio con una presentazione Google. Allora, qui in alto a sinistra, nuovo, presentazioni Google. Do un nome alla presentazione Google, per esempio, derivati del frumento. Cancello un po' di cose che non servono in questo caso, solo un piccolo titolo qui. Questo anche per ricordarci un attimino come si fa a creare una presentazione Google. Inserisco poi un'immagine dal web, vado a cercare frumento, derivati del frumento, per esempio. Ah, tra parentesi, le immagini che mi vengono fornite sono anche libere del copyright, quindi utilizzabili. Quindi, scelgo questa, per esempio, la tocco e faccio inserisci. La posso spostare, la posso ampliare con le manine qui, ecco, per esempio. Un po' troppo grande, quindi la rimpiccioliamo un pochino. Giusto per avere una slide da cui partire, poi vado qui, tasto destro, nuova diapositiva, cancello il testo, che ora non mi serve, è solo una cosa velocissima, e aggiungo, che ne so, posso aggiungere un'altra immagine, inserisci un'immagine da web, con il pane, pane, ecco, questa vi potrebbe andar bene. Vedete, l'ho trascinata, in questo caso non ho fatto, non l'ho toccato inserisci, poi faccio un'altra immagine, nuova diapositiva, pane dopo il pane, giustamente la pasta, basta, la trascino, se mi sono dimenticato di cancellare questo, lo faccio subito, quindi cancello il testo, cancello il testo, vedete con quale semplicità si può lavorare per creare anche presentazioni Google. E un'ultima, non può mancare certamente al nostro appello, la pizza, quindi, nuova diapositiva, andiamo a cercare una bella pizza, prendiamo questa bella immagine, cancelliamo il testo su Perfure, e risistemiamo questa immagine. Questo solo per farvi vedere, se aveste bisogno di inserire testo, andate qui su inserisci casella di testo, qui per esempio, la miglior pizza del mondo. Direi che è più che sufficiente come esempio, solamente come esempio per creare una presentazione Google. Ora, una cosa fondamentale da fare è rendere disponibile questa presentazione per tutti, cioè non solo per me. Quindi vado a fare clic su Condividi, vado a fare clic su Avanzate, attualmente questa presentazione Google sarebbe disponibile solo per me, quindi faccio Cambia, e faccio clic su Attivo per tutti, pubblico sul web, salva, e poi faccio clic su Fi. Perfetto. Posso chiudere, non c'è bisogno di salvare, posso chiudere questa presentazione. Tra un attimo sarà disponibile con il tempo di aggiornamento di Google Drive, che è tipicamente di qualche secondo. Ora vado a creare un nuovo documento, velocissimamente, che è un documento Google, quindi un documento simile a Word, mentre la presentazione Google è la versione semplificata di PowerPoint. Perfetto. E qui lavoro su invece gli aborigeni, per esempio. Non mi dilungherò più di tanto su questa tematica, giusto per farvi vedere, ecco, come si possa creare velocissimamente anche qua. Allora, visualizza, inseriamo, diciamo, qualche immagine, immagine dal web, vedete la modalità è sempre la stessa, aborigeni, aborigeni australiani, forse era meglio gli aborigeni semplicemente. Gli aborigeni possiamo inserire queste immagini, ad esempio. Possiamo rimpicciolirla un pochino, così sta nella prima pagina. Ecco, potrebbe già essere sufficiente, ma ne vogliamo eventualmente inserire un'altra. Vediamo se troviamo qualcos'altro di discreto da poter aggiungere. Ecco, inseriamo questa bella immagine dell'Australia. Così. Perfetto. Quindi abbiamo un documento Google, siccome sono allineate a posto, facciamo così, inserisci immagine del web, aborigeni, riprendiamo questa immagine, la rimpiccioliamo un pochino. e nella seconda pagina abbiamo la seconda immagine. Credo che più che sufficiente abbiamo due pagine. A questo punto ricordiamoci sempre di condividere, come abbiamo fatto per la presentazione Google, ci presenta, siccome non l'avevamo rinominato, ci propone il nome agli aborigeni, va benissimo, salva, quindi automaticamente rinomina gli aborigeni, vedete qui, e facciamo clic su avanzate, cambiamo l'accesso da solamente il proprietario adattivo pubblico sul web, e facciamo salva. Perfetto. A questo punto abbiamo a disposizione due file condivisi per chiunque. chiudo anche questo. A questo punto dentro la cartella prima A, per esempio, vado a caricare alcuni file che prendo dal mio diciamo dal mio pc. Vediamo un attimino, prendo quattro file, sono quattro disegni, dopo poi come li sta caricando questa presentazione che era presente prima la cancello, quindi la rimuoviamo, e anche qui torno indietro sul mio drive, vado su prima A, vedete, tasto destro, condividi, e faccio esattamente la stessa cosa. Avanzate, cambio la tipo di condivisione, attivo, salva. Fine. Che cosa ho fatto? Praticamente ho creato una presentazione Google, ho creato un documento Google, ho utilizzato una cartella e questi documenti ora sono tutti disponibili per poter essere caricati. perfetto. Adesso cosa faccio? Vado sul mio drive, tutto qui, a riprendere il file che avevo creato, il sito, vedete, me lo presenta qua, doppio clic sul sito. Eccolo qua. Qui avevamo questo. Posso cancellare anche questa sezione che non mi serve a nulla, semplicemente cliccando qui su Elimina. O vedete, avevamo una pagina, la pagina Homepage, poi avevamo alcune materie. Allora, c'è un'alternativa a andare a cliccare qui sulla freccetta per selezionare le pagine, perché io posso, vedete, italiano, arte, eccetera, eccetera, perché posso tornare sulla Homepage, scegliere qualcosa, diciamo, che ha a che fare con la pagina, ad esempio, su italiano stiamo parlando del principe, quindi il principe, allora, vado un attimo qui, cerco il principe, e prendo un'immagine del principe, copio l'immagine, torno qui, e vado sulla Homepage, CTRL V, e copio quest'immagine. Perfetto. Adesso, su quest'immagine, se io tocco quest'immagine, vedete, che compare un link qua, inserisci link, tocco, inserisci link, e tocco italiano, applico, a questo punto, guardate che cosa succede quando io vado in anteprima, se tocco anteprima, e tocco questa immagine, automaticamente vado dentro la pagina italiano, questo è importante perché così evito la fatica di andare a cercarla qui, anche perché magari se sto utilizzando un tablet o uno smartphone addirittura, diventa difficile poi con il dito toccare esattamente la freccetta per far aprire questa schermata. Io lo torno su Homepage, poi posso fare la stessa cosa con, ora qui sono in visualizzazione, chiudo la visualizzazione di anteprima, torno qui sulla pagina Home, posso spostare un pochino questa, posso aggiungere la pagina di Arte, per esempio il Brunelleschi, allora vado a prendere il Brunelleschi, prendo una immagine del Brunelleschi, poi mi fermo qui con l'esempio perché avete già capito tutti, prendo un'immagine, anche questa potrebbe essere sufficiente, copio immagine, vado sul sito della Home, nella stessa sezione faccio CTRL V, se non me la copia nella stessa sezione non faccio altro che andarmela a prendere e inserirla lì dentro, poi la posso diciamo tranquillamente modificare, vedete, così, ecco, perfetto, anche qui tocco questa, link, e poi scelgo arte, a questo punto questa immagine mi manderà nella pagina di arte, vedere per credere, tocco anteprima, per esempio metto visualizzazione tablet, tocco qui, non l'ha presa, scusate, allora, vado qui, la pagina, link, arte, pagina arte, applica, non avevo fatto applica, ok, quindi vado su, vado su, solo un pochino, vado su anteprima, tocco qui, e vado a finire sulla pagina di arte, perfetto, vi risparmio i collegamenti alle altre pagine, ma invece, andiamo a vedere nella home page che cosa possiamo fare, bene, inseriamo quindi un divisore, possiamo come al solito mettere una enfasi magari leggera, e a questo punto andiamo a vedere come inserire, per esempio, ecco qua facciamo un po' di tutto, non si farà mai una cosa come quella che sto facendo per fare adesso, perché mettere un put purri, mettere tutto in una pagina diventa una cosa piuttosto brutta, su una home page è bene che le cose siano organizzate bene affinché il sito sia fruibile, sia navigabile, ad ogni modo io lo faccio in questa pagina solo per farvi vedere che cosa è possibile fare, quindi, innanzitutto è possibile inserire un video da YouTube e quindi tocco video YouTube, poi posso creare per esempio la parola rinascimento, rinascimento, vediamo se abbiamo qualche bel video sul rinascimento, il rinascimento per sapere di, io scelgo subito questo, poi volendo qui potrei aggiungere diciamo altro testo, non lo faccio, metto un altro divisore, poi creo un'altra sezione sotto, abbiamo già visto come inserire delle immagini, potrei inserire però, potrei inserire una mappa, ecco, una mappa interessante, inseriamo una mappa, via città, Sant'Angelo, Roma, vedete, seleziona e quindi abbiamo inserito questa mappa, dopo poi vedrete la funzionalità interessante di questa mappa. Accanto a questa mappa divertiamoci a inserire qualcos'altro, allora inseriamo per esempio un documento, il documento sugli aborigini che abbiamo creato prima, prendo questo, tocco e poi faccio inserisci. Se il documento sugli aborigini è esageratamente grande, lo riduco, lo posso prendere e inserire nella sezione sotto, lo posso ingrandire un poco, così, poi sotto creare un altro divisore, poi sotto posso andare a inserire una presentazione, la presentazione Google che avevamo fatto prima sulla derivata del frumento, inserisci, un po' interessante adesso, tocco la presentazione, guardate, qui compare il menu impostazioni, vado su impostazioni, faccio l'avvia automatico, riproduzione in loop, tempo di ritardo tra una diapositiva e l'altra, per esempio tre secondi e parto dalla diapositiva uno, fine. direi che lasciamo stare i moduli per adesso, grafici e foglie, potrei farvi vedere ancora come inserire una casella di, diciamo, un incorpora, incorpora è una funzione molto molto interessante, perché potrei inserire addirittura l'indirizzo di un sito web, quindi vado a cercare per esempio un sito web che forse alcuni di voi conoscono, che è il sito web di Aranzulla, salvatore Aranzulla, aranzulla.it che, diciamo, dà soluzioni praticamente su tutto, quindi CTRL-C per copiare, qui vado CTRL-V, ecco, vedete che cosa succede? Che appena io ho inserito mi fa vedere la possibile antiaprima, io scelgo quella pagina intera, clic, immetti, e quindi ho inserito il sito di Aranzulla. Naturalmente lo posso ridimensionare anche questo per farlo diventare piccolo a piacere, lo posso inserire sopra qui, oppure lo posso lasciare anche sotto, ecco, magari qui creo un altro divisore, lo faccio sotto, ecco, lo ingrandisco un pochino, l'ultima cosa che, e poi lo ridispongo al centro, l'ultima cosa che vorrei farvi vedere è questa, l'inserimento di una cartella. Benissimo, allora, a questo punto vado a inserire qua in alto da Drive, ecco, è la prima volta che faccio vedere come si inserisce qualcosa da Drive, tocco Drive, e vedete la cartella prima che avevo condiviso prima, la prendo, tocco la cartella e faccio l'inserisce. Non vi preoccupate nel modo più assoluto se compare una faccetta di questo genere, quindi vado qui, tra le proprietà tocco impostazioni ad elenco, potrei scegliere visualizzazione griglia, scelgo elenco, fine. Perfetto. Ora vado a pubblicare questo sito, pubblica, ok, pubblicazione in corso. Benissimo, adesso vado su HPTPS, ce l'ho già pronto, no, scusate, questo era quell'altro, vediamo un attimino l'indirizzo qual'era, Maria trattino millefiori, perfetto. E la nostra pagina ci si presenta così. Allora, partiamo dall'home page dove non abbiamo solo più l'immagine di banner ma abbiamo queste due diciamo foto che ci rimandano rispettivamente cliccandole alle pagine che ci interessano. Torno indietro all'home page, questa mi rimanda alla pagina di arte torno indietro all'home page sotto abbiamo il video che posso avviare tranquillamente potrei anche ovviamente avviarlo a pieno schermo la connessione è un pochino lenta quindi anche perché sto usando la per diciamo registrar in questo momento considerato il medioevo come il periodo dei secoli bui dominato dalla superstizione e blocco tutto e questo era il filmato ecco qui abbiamo il nostro documento vedete che abbiamo creato prima sotto abbiamo la presentazione che sta camminando da sola praticamente come potete ben vedere a distanza di tre secondi stanno diciamo passando le diapositive una dall'altra qui abbiamo la cartella condivisa dove chiunque può aprire scaricarsi il file vedete ad esempio chiudo e qui abbiamo il sito di Aranzulla che possiamo navigare cerca per esempio da jpeg a bitmap hai cercato da jpeg a bitmap esatto vedete quindi potete tranquillamente incorporare un sito vediamo l'ultima funzionalità quella della mappa ecco questa è la mappa potete navigarla più e meno quindi direi che ragazzi con questo è tutto veramente questa abbiamo esplorato appieno la funzionalità di google sites ora lascio a voi il divertimento per mettere a frutto queste diciamo nuove funzionalità e vi auguro una buona serata e vi auguro vi auguro Grazie a tutti